Qualche comunicazione in modo... Direttore sportivo del Termoli Calcio, Pino De Filippis, si chiude un anno importante per il Termoli, merito anche tuo perché sei riuscito a mettere in piedi nell'arco di questi 12 mesi due squadre veramente eccellenti, è arrivato il secondo posto nella scorsa stagione calcistica, la qualificazione alla Coppa Italia Nazionale, adesso si chiude il 2013 con il secondo posto in Serie D, un Termoli che sogna. Sicuramente è stato per quanto riguarda l'anno solare 2013 un anno importantissimo per il Termoli Calcio, quando in tutto il 2013 abbiamo fatto la bellezza di 72 punti, tra 17 partite del giorno di ritorno dell'anno scorso, le prime 17 di quest'anno, 72 punti, di solito con 72 punti si vengono i campionati, penso che ormai il Termoli si sia consolidato anche a livello nazionale, nel senso che è sempre diventata una società ambita, sanno che si possono fare le cose fatte bene e penso che sia motivo di soddisfazione per la tifoseria e per la città. Al giro di Boa avresti firmato la vigilia per girare al secondo posto, a meno sei da Lancona? Non ne avrei firmato niente perché se andiamo a vedere il girone di andata di quest'anno abbiamo lasciato punti contro i Cerni Angolana che sicuramente è solo colpa nostra, perché come se avessimo fatto il nostro volevamo girare pure a 38, che secondo me 38 era una classifica, un punteggio sicuramente importantissimo. I dati della Panini, dell'Almanacco Panini 2014, dicono che l'anno scorso il Termoli al giro di Boa, nel girono di ritorno è stata quella che ha fatto più punti in questo girono, sicuramente di buon auspicio per quello che inizierà da Macerata? Sì, sicuramente di buon auspicio, a strane che l'anno scorso avevamo una squadra che praticamente era rimasta quasi tutta, nel senso che si è fatto sia l'andata che il ritorno. Adesso la squadra è leggermente cambiata, abbiamo preso degli elementi che possono fare al caso nostro, arriverà sicuramente qualche altra persona e speriamo di ripeterci come l'anno scorso, di fare parecchi punti. È arrivato il centrocampista ex Campobasso Todino, qualcosina si potrebbe ancora aggiungere strada facendo, soprattutto visto che il mercato dell'ACI mostra e mette in evidenza tantissimi giocatori che si sono liberati. Per quanto riguarda il regolamento, i giocatori di serie C non possono scendere più, possono scendere fino al 31 dicembre, possono scendere solo i giovani di serie, cioè i 94-95 dalla C, quindi arriverà sicuramente un difensore nel breve giro di un paio di giorni, all'inizio dell'anno e poi vediamo di prendere qualche altro under di qualità che va a rinfoltire già l'organico degli under che secondo me è di prima fascia. Per chiudere Maggi, un nome nuovo che è uscito, ex Imperio, potrebbe essere tesserato in questi giorni? Il 3 gennaio come riapra il mercato dei professionisti, lui è un 95 che è stato a Viareggio e penso che non ci siano problemi per tesserarlo, perché è andato via da Alessio e quindi dobbiamo rimporzare il reparto under. Grazie.